tasche piene cuore vuoto è il rischio grande della nostra società essere ricchi di tante cose ma poi non sapere cosa sia la felicità dal vangelo secondo matteo difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli ve lo ripeto è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di dio per capire questo paradosso occorre domandarsi cosa significhi essere ricchi c'è qui un doppio significato da una parte la ricchezza viene vista nell'antico testamento come una benedizione ma allo stesso tempo si rimprovera i ricchi quando non vedono la povertà degli altri e opprimono chi è in difficoltà c'è poi un terzo significato di ricchezza contraria dio ed è quella dell'autosufficienza di chi proprio a causa di ciò che possiede smette ad aver bisogno degli altri e di dio il pericolo più grande è proprio quello di chi pensa di potersi salvare da solo di chi ritiene di potersi dare vita e felicità da solo a queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano allora chi può essere salvato gesù li guardò e disse questo è impossibile agli uomini ma a dio tutto è possibile i discepoli rimangono scandalizzati proprio perché nella loro cultura la ricchezza era vista solo come benedizione di dio c'è radicata l'idea che dio benedice o punisce a seconda del comportamento del singolo o del popolo le cose ti vanno bene hai tante cose ecco dio ti benedice le cose vanno male hai combinato qualcosa di grave o tu o qualche tuo avo gesù scardina questa logica di dio come giudice che manda benedizioni o fulmini dal cielo gesù più che dirci cosa fare o come comportarci ci sta dicendo un'altra cosa occorre che cambiamo prima di tutto la nostra idea di dio se tutto è possibile a dio significa che la salvezza viene solo e soltanto da lui che la felicità e la vita piena non è un premio perché tu sei buono ma perché lui è buono e questo è possibile solo se prima di tutto ci riconosciamo bisognosi del suo amore il senso della povertà e questo spazio interiore ed esteriore lasciato vuoto perché sia riempito da dio allora pietro gli rispose ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito che cosa dunque ne avremo pietro con questa domanda vuole andare subito al centro della questione che ne sarà di noi che siamo qui ora con te gesù disse loro in verità io vi dico voi che mi avete seguito quando il filo dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di israele a chi ha lasciato tutto viene dato il tutto a chi ha saputo fare spazio a dio dentro e fuori dalla propria vita sarà abitato da dio stesso questo mettersi a giudicare significa essere uniti all'azione e all'opera di dio significa amare con lo stesso amore con cui dio ama significa essere noi stessi immersi nell'amore con cui siamo amati da dio chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi e questo è un passaggio importante tutto ciò a cui si è rinunciato non viene buttato dimenticato cancellato ma viene moltiplicato quando si impara ad amare come dio ci ama cioè senza possedere senza arricchirsi tutto finisce con il moltiplicarsi quanto spazio inutile dentro e fuori di noi sottraiamo all'amore che dio vorrebbe donarci grazie